Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video. Ragazzi ancora ci siamo qui su Yu-Gi-Oh! 2 Links e ragazzi come potete ben vedere, sì, sono arrivato fino al rango leggendario 1 e ragazzi ce n'è voluto per salire però, diciamo così, negli ultimi due giorni ho giocato leggermente in più sono riuscito a fare una decina di partite al giorno sono stato, diciamo tra virgolette, molto fortunato e anche molto bravo perché sono arrivato fino a qui e lo dico proprio con la massima fierezza con il deck Naturia ragazzi, quindi deck Naturia che mi permette di arrivare fino al grado leggenda 1 certo l'ho giocato altre 5-6 partite ma facevo vinta persa, vinta persa, vinta persa e quindi ho deciso praticamente, vedete qua ho fatto vinta persa, vinta persa, persa, vinta persa, vinta praticamente con il Naturia allora la cosa non ingranava molto allora ho deciso di cambiare deck ragazzi che ve lo vado a spoilerare perché è il deck Toon basato sui fratelli Paradox che ancora non vi porto alla decklist perché non è del tutto completa ma nonostante non sia completa e nonostante mi manchi un Drago Revolver Toon perché non sono riuscito ad avere il 3 pier dall'evento questo deck è davvero fortissimo, tanto è vero che in leggenda 1 sono riuscito già a fare 3 vittorie di seguito quindi senza perdere ulteriore tempo andiamo a giocare sono riuscito a fare 3 vittorie di seguito e penso che ci vogliano 5 vittorie di seguito per salire al rango successivo di questo non ne sono sicuro potrebbero bastarne 4 come 5 adesso andiamo a vedere se questa ci dice che saliamo ci vogliono 4 vittorie di seguito se non ce lo dice vuol dire che nel rango leggendario ce ne vogliono ben 5 comunque ragazzi sono contentissimo perché anche in questa season ho giocato poco, davvero poco ma tutti i sacrifici nel completare i deck sono comunque risultati a qualcosa infatti no, bisogna fare 5 vittorie è risultato un buon risultato appunto tanto è vero che sono comunque riuscito ad arrivare a leggenda giocando davvero davvero poco e di questo comunque sono soddisfatto contro abbiamo un Naturia, ok va bene così vediamo un po' allora, carta che al momento... cioè mano un po' brutta detto proprio sinceramente, la mano che ci è capitata non è delle migliori però ragazzi, comunque abbiamo il mondo Toon che, ok, c'è il regno Toon che comunque ci aiuta parecchio andiamo ad evocarci specialmente questa carta in posizione di difesa che dovrebbe, tra virgolette, difenderci abbastanza bene e vado a settare tutte le carte che tengo perché al momento non ho bisogno di fare nient'altro ci vorrebbe un bel Drago Revolver detto proprio sinceramente sarebbe veramente ottimo pescare un Drago Revolver nel prossimo turno ma comunque anche altri mostri non sarebbero male vediamo un po' ci gioca, ok, Naturia Zucca quindi giocherà il Cervo è stato comunque fortunato il nostro avversario quindi vedete comunque nel grado leggenda ancora si gioca il deck Naturia perché ragazzi, è un deck davvero davvero forte molto versatile, molto veloce molto che comunque ti può permettere di fare belle cose allora 2005 mi attaccherà ok, prima con quelli a me sta bene e attiverò ovviamente l'effetto della mia carta terreno che davvero ragazzi è una cosa imbarazzante quanto è forte questa carta praticamente devo solo sperare di non scartare carte inutili ci attivo supercorsa perché avendo tutti gli spazi occupati non potrà giocarmi l'altro Cervo dal Cimidero sono di tipo terra ecco qui e andiamo a distruggergli comunque il suo mostro più forte al momento quindi fuori il Cervo e non potrà neanche più continuare la Battle Pace quindi evitiamo anche di buttare altre carte dal nostro deck che è una cosa comunque molto molto utile e comunque il nostro avversario adesso si ritrova un po' con i cavoletti perfetto ragazzi Drago Revolver perfetto davvero perché? perché adesso io andrò ad attivarlo e andrò ovviamente ad attaccare con tutti i miei mostri allora questo dice controlli devi prima pagare specialmente ok questa carta non può attaccare se devi fare 500 dichiaro un attacco con questo mostro ok devo comunque pagare 500 per attaccare con questo ma lo devo fare perché la castagna gliela voglio distruggere se no comunque al prossimo turno lui potrà pescare e detto tra giocatori da player di Naturia è una cosa brutta questo qui ragazzi se non era il Drago Revolver normale perché l'ho messo in sostituzione al Drago Revolver che non ho Thun avrei bersagliato la carta coperta che lui ha ed era penso 10 volte meglio di quello che sta succedendo adesso comunque va bene andiamo a provare a distruggere questo mostro e la cosa ha funzionato alla grande quindi non mi preoccupo neanche di perdere ulteriori life points per attaccare con il mio mostro ma attacco direttamente con il Drago Revolver che è l'unico vantaggio a differenza del Thun questo può anche attaccare spero che non abbia muro a specchio perché se ha muro a specchio davvero è un culo esagerato va bene ragazzi dovevo immaginarlo comunque un piccolo errore da parte mia dovevo cioè io immaginavo che avesse muro a specchio però vabbè vedete se era il Thun avrei distrutto il muro a specchio e sarei andato direttamente contro la Naturia Castagna e avrei fatto un bel po' di danni lui giustamente paga questi 2000 life points ma ragazzi a noi va benissimo così perché se dovessi pescare le carte giuste vi assicuro che non durerà molto il nostro avversario allora questa qui ha anche un'altra carta di sostituzione perché non dovrebbe essere Bacca della Supremazia ma dovrebbe essere Egida di Gaia ma va bene così andiamo a prenderci questi 2000 life points che sono sempre e comunque buoni ok ragazzi allora vi chiedo scusa perché vi siete ritrovati con la partita interrotta mentre stavo parlando perché la memoria del telefono purtroppo si è riempita lo so è un'altra cosa che devo risolvere devo comprare una memoria più grande ma puntualmente me lo dimentico e praticamente ho dovuto staccare la registrazione e la partita purtroppo non la potevo interrompere perché era in rango come ben sapete e quindi ho dovuto completare da solo però meglio così ragazzi perché sono stati altri 5-6 minuti di partita molto noiosa dove io mi difendevo poi arrivato a giocare i mostri adatti per attaccare diretto ho attaccato diretto e ho vinto il duello quindi è stato davvero molto semplice comunque abbiamo ben 1-2-3-4 vittorie di seguito quindi ragazzi con questa partita qui con questa partita sempre se vinciamo dovremmo essere saliti fino al rango 2 di leggenda e sarebbe un ulteriore ampliamento del nostro record e sinceramente ve lo dico proprio in onestà questa season io ci invalgo tutto re dei giochi e ci posso cioè ci potevo arrivare se solo avessi giocato un poco in più nell'arco del mese purtroppo mi sono concentrato di più sugli eventi e su queste cose e mi dispiace perché comunque vi avrei voluto portare il rango re dei giochi abbiamo comunque vedete la possibilità di salire al rango 2 la mano è un po' brutta sinceramente la mano che mi è uscita è molto brutta però però dobbiamo rischiare ragazzi purtroppo sì la mano che mi è capitata è una delle peggiori perché l'unica cosa che si può fare è giocare così un drago revolver e davvero sperare che l'avversario non mi levi questi mille life points così come l'acqua fresca e purtroppo abbiamo anche startato per primi sarebbe stato molto meglio essere i secondi sia per pescare una carta in più sia appunto per attivare l'effetto di drago revolver già appena evocato però se lui dovesse andare un po' sulla difensiva esatto come appena fatto la situazione non è bruttissima ragazzi non è bruttissima anche se continuiamo purtroppo a prendere carte un po' inutili e sinceramente io attivo l'effetto del mio drago revolver però però non so che cosa possa mai succedere vediamo un po' andiamo sulla carta coperta perché ragazzi ci ha fregato per bene immaginavo avrei voluto puntare sul mostro ma va bene così neanche l'avremmo distrutto comunque attacchiamo ragazzi io provo ad attaccare perché tanto o la va o la spacca speriamo di non subire troppi danni ok è un deck verme ok quindi è la prima volta ragazzi vi assicuro che è la prima volta che lo trovo contro un deck worm e quindi non lo so vediamo un po' che cosa ci fa sicuramente se ci cala la fusione ragazzi abbiamo perso se ci cala la fusione con la mano che teniamo al momento abbiamo perso ma per fortuna ripeto per fortuna ci è capitato un mostro decente per una volta che ci farà prendere il regno toon finalmente eccolo qua quindi lo andremo a giocare perfetto e dovremmo davvero stare molto più tranquilli anche perché penso che con il regno toon possiamo bloccare l'effetto della fusione worm in più lo possiamo difendere grazie alla nostra bellissima carta magia quindi andiamo a difenderlo ottimo e potrei sia attaccare direttamente con questi 2006 ragazzi sia vabbè prima di tutto attiviamoci l'effetto questo mi sembra normalissimo attiviamoci l'effetto andiamo a provare a spaccargli il mostro sarebbe la cosa migliore perfetto perfetto davvero è la cosa migliore che ci potesse capitare mostro distrutto effetti non se ne attivano noi ci evochiamo specialmente questo mostro che però non può attaccare nel turno in cui viene evocato se no avevamo già vinto il duello andiamoci diretti con il 2006 e praticamente ragazzi se lui in questo preciso turno non vince e non ha carte per difendersi nel prossimo turno un attacco diretto e abbiamo vinto purtroppo abilità ultimo azzardo quindi last gamble per fortuna pesca solo tre carte poteva andargli molto molto meglio che cosa tiene speriamo nulla di tanto eclatante da romperci il culo ok sembra di no dico sembra ci gioca più carte coperte secondo me secondo me è ovviamente per depistarci un attimo ma noi non ci demoralizziamo quindi effetto di drago revolver e io punterei sinceramente sulla seconda carta perché nel modo in cui ha giocato mi sembra che volesse fare intendere che la seconda carta non servisse a nulla invece secondo me è proprio la carta più utile per lui infatti ragazzi che vi ho detto la prima carta era un fake immaginavo perché ha giocato in un modo molto strano ha giocato la prima carta poi ha aspettato tanto tempo e ha giocato la seconda scommettete che la seconda è una carta buona andiamola a vedere che carta era era un windstorm ragazzi era un windstorm ve l'ho detto che era una carta buona quindi semplicemente ragazzi no prima di fare qualsiasi altra cavolata aspettate settiamoci la carta spostiamoci in posizione di attacco il mostro perché potrebbe avere comunque un curibosfera attacchiamo diretto con i 2006 i 2006 vanno in porto ragazzi e siamo rango leggendario 2 ragazzi finalmente le cose si stanno mettendo per il meglio siamo rango leggendario 2 penso ragazzi che visto che oggi è l'ultimo giorno e a mezzanotte cioè le 3 di notte di oggi ci sarà il reset delle rank penso che mi impegnerò quanto più possibile per scalare e arrivare al rango re dei giochi non vi assicuro niente perché è comunque molto molto complicato salire siamo leggendario 2 dobbiamo fare altri 5 vittorie per il leggendario 3 poi penso altri 5 per il grado leggenda finale re dei giochi quindi praticamente con una decina di partite vinte dovrei riuscire a salire se ne faccio 5 di seguito così come le ho fatte adesso la cosa si può fare ragazzi quindi rimaniamo con la cosa che tanto voi questi video li vedrete con la season già finita perché ho tante cose da caricarvi rimaniamo che vi porto qualche altro video su queste partite che poi sono anche le più impegnative le più belle sono comunque dei massimi livelli però mo che scalo un po' più avanti se però giocando scendo di nuovo a leggenda 1 poi faccio leggenda 2 sempre le solite cose evito proprio di portarvi le partite ci vediamo direttamente con la nuova season che ripartiremo comunque da dove ci schiaffano e cerchiamo di risalire quindi ragazzi come al solito vi ringrazio mi raccomando iscrivetevi commentate condividete questo video se il video vi è piaciuto lasciate un like noi ci vediamo con il prossimo bella raga